benvenuti al toto show io sono toto e questo è un video completamente a caso questo è un termos che può contenere un litro d'acqua se non sbaglio comunque non mi sono informato troppo oggi andremo a bere un litro d'acqua che sta qui dentro in che ci demora 20 secondi questo sarà il nostro obiettivo di oggi che dire detto questo lo sapete oggi è domenica oggi c'è il video a caso e il tutto cioè composto proprio così mercoledì video del fitness venerdì video nerd domenica video caso anche lunedì potrebbe essere giungito a caso semplice no bene nel momento il cronometro questo è un termos e devo vedere se riuscirò a spangere questa challenge fantastica che ho appena deciso io a luna di notte perché non ho sonno non voglio di dormire non so cosa fare quindi ho detto portiamo un contenuto stupido su youtube bene questo è il cronometro non so se si veda spero di sì perché se no sto per vedere un litro d'acqua senza un senso se la farò non lo so però come ho già detto un video completamente a caso questo è un termos questo è un tripod e questo è un telefono con un cronometro che andremo per non so per questo per fare vabbè andiamo a bere sto litro d'acqua uno due tre via già ho fatta è finita cazzo no completamente vabbè neanche ho avuta poca l'abbiamo fatta passo e chiudo signori no 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 Grazie a tutti.